Noi dobbiamo capirlo, non potranno tornare se non offriamo loro nulla, non torneranno per un pugno di mosche, non bastano i campi, le persone non possono vivere per sempre nei campi rifugiati e noi abbiamo campi per gli sfollati interni, ma se vogliamo che tornino devono sapere che non rimarranno senza ospedali, senza scuole per i loro figli, senza mangiare, senza lavoro, dobbiamo costruire una società che sia pronta ad accogliere la nostra gente quando e se vorrà tornare. E nel contempo io capisco le difficoltà dei paesi ospitanti, noi a livello di politica vogliamo stabilire dei buoni rapporti con i paesi che ospitano gli espatriatri del Myanmar, perché anche i paesi ospitanti hanno delle difficoltà che dobbiamo riconoscere e dobbiamo riconoscere che abbiamo un ruolo da svolgere nella problematica della migrazione, perché noi dobbiamo in qualche modo sopperire alla necessità delle persone che lasciano invece il paese per bisogno. Vi dicevo che questo non è un problema che possiamo risolvere portando il dito su qualcuno, ma dobbiamo semmai trovare il modo di cooperare insieme.